BOM 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 Si univa il rullo dei tamburi, si univa la tromba di suonare, viene giù però se cominciarono a sparare, ora facciano i tamburi, ma quel eco resterà, ed il grido di quel boxer non si spegnerà mai più. 55 giorni, uniti nell'onore, i nostri filli combatteranno con valore. Ricordiamo quegli eroi. Complessa dell'allegatora